Amo un Valencia, visca il Valencia, è il migliore Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale VR Dark Knight 91 e benvenuti nella quarta puntata su FIVA 21 nella modalità carriera allenatore con i nostri pipistrelli con il nostro Valencia nella scorsa puntata abbiamo completato il centrocampo e abbiamo vinto il tour precampionato con un Moise Ken incredibile incredibile, ha fatto dei gol fantastici e ci ha portato alla vittoria quest'oggi cercheremo di completare la fase difensiva e attenzione perché ci saranno dei colpi di mercato assurdi incominceremo il campionato, dipenderà tantissimo da come andranno le trattative se faremo due partite di campionato o solo una perché vorrei cercare di prendere oltre a almeno due difensori anche il nuovo portiere anche se Casperone si è comportato davvero molto bene soprattutto in semifinale parando i calci di rigore mi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su e adesso andiamo in sede perché incominciamo a spippolare e a cercare i giocatori che ci interessano il mio staff di osservatori da tre stelle ci sta mettendo davvero tantissimo tempo a darmi le relazioni su determinati difensori che ho cercato quindi cosa ho fatto? Mi sono messo in proprio e ovviamente in futuro cambieremo quegli osservatori dicevo mi sono messo in proprio e mi sono messo a ricercare nello specifico alcuni difensori centrali anche se non avevo l'overall a mia disposizione per capire se poteva essere forte o comunque un giocatore scarso ho incominciato a vedere alcune caratteristiche sbloccate che riuscivo a vedere la squadra di provenienza l'età e quindi ho incominciato a pensare se il giocatore giovane proviene da quella squadra e ha queste caratteristiche allora potrebbe essere davvero molto forte male che vada facciamo plus valenza quindi il primo difensore centrale che vorrei acquistare è Dan Alex Zagadou 21 anni francese difensore centrale del Borussia Dortmund piede debole 3 stelle riepilogo forza contrasto in piedi scivolata e precisione di testa 1,96 per 90 kg piede sinistro e ci serve un difensore con il piede sinistro è un armadio signori quindi ci potrebbe davvero aiutare e secondo me questo qui è già forte e secondo me il suo valore di mercato già sarà altissimo sui 20-25 milioni secondo me vediamo di dare in scambio qualche giocatore sempre se il Borussia vuole venderlo quindi se noi premiamo dice non abbiamo abbastanza informazioni quindi contattiamo per acquistare eccoci qui a trattare con la dirigenza del Borussia Dortmund per Dan Alex Zagadou proviamo uno scambio secondo me questo giocatore come già detto vale già parecchio faccio una mossa di mercato per non poter per non dover spendere davvero tanti soldi quindi vado ad offrire sì lo so molti adesso mi criticheranno ma vado ad offrire Maximiliano Gomez che vale 32 milioni a me lui non piace secondo me non vale 32 milioni non mi è mai stato utile do Maximiliano Gomez per Dan Alex Zagadou se accettano vuol dire che vale di meno e il Borussia Dortmund ha fatto un affare non vogliono Maximiliano Gomez vogliono 45 milioni 45 milioni non vogliono Maximiliano Gomez non volete proprio nessuno 45 milioni e 600 questo giocatore l'ho detto ho detto pure che valeva 20 milioni invece 45 milioni e 600 almeno chiede il Borussia quindi proprio nessuno nessuno vuoi almeno che mi abbassi un po' quindi dobbiamo salutare l'opportunità di prendere un nuovo portiere ti do Sheryshev ti do Sheryshev più l'offerta del cartellino te la do a 38 milioni e 500 dai è un'ottima offerta proviamoci niente mi dispiace ma abbiamo già fatto il prezzo per Zagadou 45 milioni e 600 e poi avrò pochissimi soldi per il budget stipendi e adesso cosa faccio cosa faccio contro offerta rinegozio offerta del cartellino almeno 40 milioni se no non posso acquistare più nessuno 40 milioni e 500 dai 40 milioni e 500 accetta hanno accettato ragazzi però mamma mia le trattative di mercato rigide sono davvero un qualcosa di incredibile 40 milioni per Zagadou se siete nuovi nel canale ragazzi vi dico semplicemente che non vado a guardare il valore del giocatore su internet perché sarebbe come barare quindi ragazzi parlo con i nuovi iscritti cerchiamo di fare una carriera realistica e nella realtà tu non puoi andare su internet a vedere quanto vale il giocatore e quant'è di overhaul quindi sarà un giocatore cruciale cruciale sì perché come difensori centrali con il piede sinistro non abbiamo nessuno 5 anni di contratto che accetteremo clausola rescissoria da 200 milioni quindi chi vuole Zagadou deve sborsare 200 milioni e lo stipendio e non abbiamo più soldi o cediamo o non acquistiamo più nessuno o quasi attenzio o quasi perché noi abbiamo visto nelle scorse puntate anzi voi avete visto nelle scorse puntate che con pochissimo abbiamo ingaggiato davvero tantissimi giocatori quindi contro offerta rimuovi bonus modifica stipendio e bonus ingaggio andiamo ad offrire 200 mila di bonus ingaggio con uno stipendio da 26 mila e vediamo se accetta 29 mila facciamo 28 mila più 200 mila 28 mila più 220 mila no 29 mila se vuoi 29 mila più 230 mila ok accettiamo dai ci sto assolutamente accetto signori abbiamo un difensore che sarà già titolare ma diventerà fortissimo in futuro secondo me ragazzi questa è una mia visione ciao Pierluigi Necchino volevamo solo ringraziarti per il tuo contributo al raggiungimento di uno degli obiettivi del club fama del brand previsti per la stagione l'obiettivo era aumenta il profilo del club acquistando un top player quindi è già fortissimo allora signori Zagadou è 79 di overall non è un top player perché mi hanno detto top player sarà probabilmente un top player comunque è già il secondo difensore più forte che abbiamo in squadra dopo Paulista quindi va bene allora la numero 3 per Dan Alex Zagadou signori quindi adesso il piano di crescita vediamo un attimo adesso mi sa che ha un piano di crescita equilibrato non so se lasciargli questo oppure andare a mettergli tipo difensore centrale visione aumenta molto la visione l'equilibrio il controllo palla la difesa però poi non si va a allenare su precisione di testa quindi io direi di lasciare equilibrato per il momento allora signori nel frattempo mi sto allenando e sto già utilizzando Zagadou per capire più o meno se è già abbastanza forte e posso dire assolutamente di sì allora vediamo un attimo se riusciamo a prendere il secondo difensore anche se non abbiamo soldi il prossimo difensore quindi difesa praticamente francese vorrei prendere Tonghi Quassi del Bayern Monaco difensore centrale sa fare anche il centrocampista difensivo ma lo utilizzeremo probabilmente come difensore centrale forte e con tanta elevazione così come il nostro primo acquisto Zagadou il problema è riusciremo ad acquistarlo il club ha acquistato il giocatore di recente e non intende trattare la cessione che sfiga ci ho messo troppo tempo e quindi dobbiamo virare su un altro difensore e il difensore che vorrei prendere è signori Ibrahima Konaté francese anche lui difensore centrale del Red Bull Lipsia contrasto in piedi forza, velocità scatto, scivolata, intercettazioni secondo me Quassi valeva di meno di Konaté però volevo cercare di risparmiare quindi siamo costretti diciamo a tentare l'acquisto di Konaté un altro francese ovviamente sono tutti giocatori consigliati da Kondo Bià che è francese come loro li conosce molto bene quindi adesso il problema è che questo qui costerà più o meno come secondo me Zagadou un 20-30 milioni sono da sborsare il problema è sperare che il Red Bull Lipsia vuole qualche mio giocatore quindi come sempre gli vado a offrire Maximiliano Gomez vediamo cosa dicono no, non vogliono Maximiliano Gomez ma vogliono 39 milioni e 600 non li ho non li ho controfferta scambio giocatori chi posso dargli? qualcuno che è costretto a dire per forza di sì Terzini la torre Correia no portieri non ne abbiamo che valgono qui non abbiamo nessuno Ali abbiamo Gonzalo Gedes Soler Sheryshev e Jason ragazzi non abbiamo soldi ti posso dare Vajeko vuoi Vajeko? però il problema è che non vale neanche lo scarpino di Ibrahima Conate niente signori hanno rifiutato quindi dobbiamo avvortire questa idea di prendere il secondo difensore aspettare speriamo di riuscire a cedere qualche giocatore tipo Maxi Gomez che a me non piace e riuscire a prendere o Ibrahima Conate o un altro difensore sempre però vediamo un attimo facciamo trascorrere un po' le giornate vi ricordo che la prima partita di campionato è contro l'Atletico Madrid quindi bisogna avere già la squadra al completo quindi termina trattative arrivederci ci stiamo allenando per iniziare il campionato nel migliore dei modi e stiamo cercando adesso di capire un po' come mettere bene questi palloni in mezzo attenzione grande Inter ci fa un'offerta per Maximiliano Gomez 35 milioni e 600 e quindi possiamo acquistare l'altro difensore centrale perché e non posso dirlo è un regalo finale la squadra Inter è interessata a questo giocatore il suo valore di mercato scilla tra 39 milioni e 900 e 58 milioni e 500 siamo con Antonio Conte agghiacciante quello che sta per succedere agghiacciante signori dobbiamo strappare più soldi ad Antonio Conte e all'Inter che ringraziamo davvero di cuore per questa offerta quindi rinegozia offerta per il cartellino mi devi dare ben 43 milioni e 800 hanno accettato 43 milioni e 800 signori se arrivano questi soldi prendiamo il difensore attenzione il Monaco ci ha fatto sapere che è disposta ad offrire CDB più un conguaglio per Carlo Soler 16 milioni ma no ma assolutamente no rifiuta non mi interessa è un terzino destro CDB quindi rifiuta offerta nel frattempo cerchiamo di arrivare belli carichi nella prima di campionato contro l'Atletico Madrid e McKennie si sta comportando davvero molto bene ci hanno fatto un'offerta incredibile 62 milioni per José Gaia e adesso cosa faccio 62 milioni per Gaia il Bayer Monaco ragazzi se lo vendo ad 89 milioni allora io cedo Gaia 25 anni però era molto utile nella fase difensiva però dai posso potenziare tutto Gomez nel frattempo non fa sapere nulla non accetta e ne rifiuta l'Inter adesso se rifiuta giuro lo svendo no ragazzi è troppo è troppo 62 milioni è tanto 62 milioni come faccio a rifiutare 62 milioni vi rendete conto possiamo prendere il portiere che voglio io allora dammi 88 milioni se rifiuta meglio così almeno mi metto l'anima in pace dammi 88 milioni se accettano 88 milioni signori silenzio 74 e 800 per 80 milioni accettano 80 milioni e 500 e hanno accettato signori Gaia va via dal Valencia mi dispiace tantissimo ma sono 80 milioni e 500 nel frattempo il miglior livello di pallone che scotta è collezione trofei è stato perfezionato scenari difensivi l'ho già a livello A quindi posso fare simula tutto attenzione perché nel frattempo nel nostro vivaio questo Jason Visser secondo me diventerà fortissimo olandese che sta migliorando tantissimo ci hanno fatto un'offerta per DHB in prestito che andremo a rifiutare scrivo per aggiornarla sul programma di crescita per condobbià ha raggiunto i livelli fisici e tecnici che aspettavamo da lui va bene vediamo un attimo mamma mia guardate la forma fisica e la lucidità sul piano di crescita siamo messi benissimo abbiamo completato no qui servono ancora 157 settimane si ma è arrivato al massimo non può migliorare no qui non può migliorare non può migliorare più nulla no mi sa di no quindi li vado a mettere equilibrato così almeno si potenzia un po' su tutto Gaia ha venduto 80 milioni e 500 ce ne danno a disposizione 74 e 500 Gomez venduto all'Inter 43 milioni 800 ce ne mettono a disposizione 40 milioni allora adesso sappiamo di più su determinati giocatori eccolo qui Ibrahima con a te dovremmo sapere adesso visto che è arrivata la relazione 78 di overhaul vale 29 milioni e 500 uno stipendio da 32 e 500 quindi adesso signori possiamo cercare di acquistare Ibrahima con a te allora lo scambio mi sa che non voleva nessuno però io vorrei togliermi davanti qualche giocatore che non mi interessa tipo Likangin vediamo se accettano più un'offerta del cartellino visto che vale 29 milioni e 500 e Likangin 9 gli do 18 milioni 18 milioni più Likangin no non sono interessati a Likangin ci chiedono direttamente solo cash 34 milioni e 700 allora facciamo così ti do 30 milioni quindi ti do 500 mila in più del valore del cartellino del giocatore e siamo pace hanno accettato più il 15% sulla rivendita perché sennò dovevo alzare più il prezzo quindi lasciamolo così probabilmente non lo rivenderemo perché comunque sarà un difensore molto molto importante arriva Ibrahima con a te e adesso sappiamo lo stipendio quindi adesso andiamo belli veloci veloci e carichi allora giocatore importante 5 anni 120 milioni la clausola rescissoria con uno stipendio neanche altissimo perché ci chiedono 24 mila quindi contro offerta rimuovi bonus perché il bonus a me dà fastidio dà davvero tanto fastidio ti do 250 mila ok più 24 mila di stipendio accetterà accettato signori difensore acquistato e adesso il portiere questa è l'attuale difesa titolare Zagadou paulista e con a te poi ovviamente questa sarà la prima stagione dobbiamo farli crescere perché ci saranno molti giocatori che nella seconda stagione saranno molto più forti come McKennie Tom Davis Gendoussi Zagadou con a te Zirk Z molti mi hanno detto Pier pronuncialo Zirk Z per favore perché se no non posso vedere più i video perché se pronunci male il giocatore per me si dice Zirk Z quindi devi dire Zirk Z se non dici Zirk Z io non vedo più i video perché se no poi non è più bello quindi Zirk Z va bene allora prima di andare sul portiere però in attacco abbiamo due giocatori abili e veloci come Moise Ken e Vajeko poi un attaccante alto anche abile ma comunque alto quindi può sfruttare i colpi di testa ci manca un giocatore visto che abbiamo ceduto all'Inter Maximiliano Gomez chi andremo ad acquistare? lo avete già visto lì nella lista nelle scorse puntate ho aspettato il momento giusto Nick Vojte Made è tedesco 18 anni una giovane promessa e questo giocatore lo prendiamo praticamente gratis perché ha una clausola recessoria di 1.450.000 quindi andiamo in sede ce lo portiamo a casa ricorda un po' Connor Simpson per l'aspetto la sua altezza è davvero spettacolare 1.98 quindi abbiamo il sostituto di Zirzi allora visto che comunque voglio sfoltire un attimo la mia rosa gli vado a dare questi giocatori che non mi interessano per Nick Vojte Made se nel caso rifiutano io gli vado a dare la clausola recessoria quindi gli vado ad offrire il prezzo che c'è per portarsela a casa senza passare per il club no vogliono 550.000 più una clausola per la rivendita comunque andremo a risparmiare allora nessuna clausola per la rivendita rinegozio e vado ad offrire 450.000 dovrebbe accettare perché comunque è ancora troppo giovane e troppo scarso 720.000 guarda che proprio a sgarro ti pago la clausola recessoria no non ha senso vabbè 720.000 facciamo 550 senza prezzo e clausola per la rivendita allora 720.000 di controfferta facciamo senza clausola per la rivendita quindi facciamo 600.000 e accetta dai 720.000 punto 720.000 e non si spostano da quel prezzo accetto alla fine non abbiamo pagato praticamente nulla accetto eccoci qua incontro con nick voi temate e speriamo diventi un giocatore davvero molto importante per questo club quindi adesso ruolo in squadra promessa per il futuro secondo me probabilmente poi 5 anni di contratto con una clausola recessoria da 80 90 milioni secondo me ok fatto promessa 4 anni 80 milioni clausola recessoria e adesso gli vado ad offrire il contratto ma non so quanti soldi percepisce quindi non vorrei rischiare e gli vado ad offrire questa somma più un bonus goal se mi fai 15 goal io signori anzi ti do un bel 800.000 800.000 se mi fai 15 goal praticamente impossibile ah però attenzione è per 4 anni il contratto eh no aspetta aspetta non esageriamo facciamo un bel 500.000 dai 500.000 va bene hanno accettato signori quindi un altro attaccante per il futuro e adesso pensiamo al portiere volevo dirvi che comunque abbiamo venduto Gaiama abbiamo le riserve abbiamo ovviamente Sheryshev abbiamo Likangin che si sta allenando per fare il centrocampista tutto fascia quindi non abbiamo bisogno di acquistare un altro giocatore almeno per quest'annata cerchiamo di tenere da parte anche alcuni soldi per il calciomercato di riparazione ma soprattutto attenzione anche per lo staff perché abbiamo solo uno staff per la primavera e abbiamo 4 osservatori indecenti da meno di 4 stelle quindi a meno mi piacciono li voglio sostituire voglio spendere soldi per gli osservatori che sono molto importanti e adesso signori o Donnarumma o De Gea o Allison attenzione mio portiere preferito è De Gea e cercherò di acquistarlo a tutti i costi a qualsiasi prezzo allora con calma scambio giocatori gli vado ad offrire in scambio non lo so Casperone mi dispiace il secondo portiere proviamo più un'offerta per il cartellino di 32 milioni 32 milioni più il nostro secondo portiere Jouamè 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 32 milioni più il nostro secondo portiere che ne vale 11 Jouamè vediamo cosa dicono è la mamma mia 74 milioni 75 quasi 75 milioni per per De Gea controfferta scambio giocatori portieri lo so spendo tantissimo per un portiere sì il portiere è molto importante finché non troveremo quello da crescere e di sicuro appena troveremo un talento un portiere talento non lo puoi mettere subito titolare quindi nel frattempo deve starci lui vediamo se accettano con Casperone più offerta per il cartellino facciamo un 52 milioni e 500 spero non mi chiudano la porta in faccia no 74 milioni e 900 però la clausola per la rivendita no rimuovi clausola per la rivendita rinegozia facciamo 70 milioni bello pulito pulito dai 70 milioni anche se vale 46 e 500 vi ricordo che abbiamo le trattative rigide quindi non è facile acquistare non è una cosa semplice hanno accettato 70 milioni per De Gea mamma mia 70 milioni e adesso speriamo davvero di cuore di riuscire a trovare un'intesa con il giocatore con questo portierone questo qui è il portiere più sottovalutato del mondo sì c'è là in Manchester United ma questo qui doveva giocare in squadre che in questo momento giocano bene e giocano per vincere la Champions League incredibile questo portiere viene troppo sottovalutato fa certe parate ragazzi solo chi vede le partite sa ovviamente il Manchester United non è che stava passando negli scorsi anni un periodo felicissimo quindi diciamo che subiva molti gol ma comunque è normale per una squadra che non si era ben compattata quindi ruola in squadra è cruciale bene tre anni durata di contratto sì 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 clausola recissoria la metto a 400 milioni se la devo mettere ma ragazzi non la metto non la metto perché non ha senso a 29 anni alcuni di voi mi hanno detto non la mettere in alcuni giocatori qui secondo me si può evitare si può evitare quindi senza clausola recissoria e adesso lo stipendio e ci avanzeranno parecchi soldi per prendere molti osservatori e staff per la primavera nessun bonus rating violate ti modifico lo stipendio ti vado a dare un milione cinque e cinquanta di bonus ingaggio più novantacinque mila di stipendio più di così eh ragazzi ci ho offerto eh no però attenzione stipendio attuale centocinquantamila ehi ehi dove vai alziamo un po' alziamo un po' non ci interessa nulla perdiamo l'imposti soldi centotrentacinquemila dai ho paura che rifiuti vai non era esattamente la cifra che sperava e mi ha assistito ma hanno accettato il mio portiere preferito arriva nel Valencia arrivederci è stato bello vederti come portiere titolare signori arriva De Gea mamma mia signori come sono felice sono felicissimo sono veramente euforico e adesso i numeri di maglia per De Gea non c'è neanche da dirlo mettiamo la numero uno per voi temate invece penso di mettergli o la 99 o la 32 alla Bobovieri va per farvi capire la 10 no voi temate con la 10 la 10 ve la dovete migliorare ve la dovete meritare scusate non migliorare ve la dovete meritare quindi per lui vediamo se la 32 è disponibile ma ovviamente si di sicuro ci sarà qualche ok 32 è disponibile voi temate con la 32 mentre sul piano di crescita penso di allenarlo come torre almeno per il momento è molto alto se non lo sfrutti di testa su cosa lo sfrutti ci hanno fatto un'offerta lo Young Boys ci ha fatto un'offerta per Jordi Escobar in prestito con diritto di riscatto ci può stare vabbè accetto siamo d'accordo stipendio 3 e 1 divisione stipendio no 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 devi pagare tutto tu no 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 controfferta se lo vuoi eeeh devi pagare tutto tu altrimenti no 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 lo vuoi te lo sto regalando con diritto di riscatto tutto tu 60 40 no tutto tu dai facciamo facciamo solo il 5% per me dai solo il 5% eh ciao arrivederci me lo tengo io è una giovane promessa te la stavo regalando e ci hanno fatto un'offerta per Casperone però non voglio cederlo lui no no secondo portiere ci sta come secondo portiere ci sta Casperone quindi no niente rifiuto rifiuto l'offerta del Norwich City attenzione il mio osservatore ha trovato già parecchi giocatori in Spagna c'è questo Gimenez 94 di potenziale Valasquez 79 questo qui no rifiuto giocatore questo no Molina continua ad osservare questi due dai guardate gli osservatori che abbiamo non sono forti cercherò sempre quelli da 5 stelle giudizio quindi Alex Oliveira e tutti gli altri andranno via tranne Matteo Rizzi che comunque è 5 stelle esperienza e 4 giudizio quindi gli do ancora qualche annetto per migliorare mentre questi tre andranno via lo spagnolo il croato e il greco andranno via per cercare nuovi osservatori molto più forti mentre sullo staff primavera abbiamo Jesus Sandoval 4 stelle esperienza e 5 giudizio vediamo se troviamo qualcuno ecco qui ce ne sono due Giorgio Mendes e li facciamo seguire giocatori ovviamente dove secondo voi se non in Portogallo per 9 mesi tipo qualsiasi va bene così e ne abbiamo trovati altre due spendiamo soldi sì sì abbiamo ancora 17 milioni ne spendiamo 4 per questo osservatore olandese quindi per lui mentre per Julian Bosch gli diamo la ricerca in Olanda per 9 mesi offerta di trasferimento per Paulista 37 milioni dal Getafe devo rifiutare per il momento perché è l'unico di esperienza che può aiutare poi i nostri due acquisti ovvero Zagadù e Conatè quindi no oh e sta per iniziare il tutto conferenza stampa prepartita contro l'Atletico Madrid già eccoci qua nella conferenza stampa ci hanno sempre fatto la spremunta se non so se vi ricordate che impatto avranno i risultati nel precampionato sul morale dei giocatori in vista di questa prima partita i ragazzi devono solo pensare a vincere abbiamo parecchi giocatori di qualità in rosa ci stiamo impegnando tutti i giorni questa e aumenta il morale crede che riuscirà a reggere la pressione e a qualificarsi per la UEFA Champions League qualificarci è fondamentale la pressione è tanta l'obiettivo è alla nostra portata dai dai è alla nostra portata sì e adesso una domanda per Conatè vediamo un po' qual è la domanda allora cosa si aspetta dal debutto di Conatè farà bene con questa squadra saprà dimostrarsi all'altezza potrebbe volerci un po' per inserirsi dai questo qui così non gli diamo pressioni scenderemo in campo così Rachic ci ha chiesto di giocare si sente in forma quindi per il momento non ci sarà McKennie attenzione me la rischio in attacco Zirkzy sì voglio mettere subito Zirkzy con Moise Ken più gioca più diventa forte De Gea è lì pronto a fare paratoni ma questa è una partita difficilissima sì ci siamo potenziati ma abbiamo ancora giocatori che devono crescere la differenza di giocatori già fermati dell'Atletico Madrid proviamoci che debutto difficile e nel frattempo prova tiri Moise Ken eccolo qui e inizia da qui e inizia da qui mamma mia che figata il campo dell'Atletico mamma mia che bella presentazione al Vanda Metropolitano Atletico Madrid Valencia una partita già tosta anche per l'Atletico Madrid mai sottovalutare i pipistrelli che si stanno potenziando l'Atletico Madrid ha fatto un gran bell'acquisto ha preso Suarez sperando che non ci morta signori mamma mia scendono gli scalini e c'è De Gea ci sono i nuovi acquisti subito fiducia gli ha dato subito fiducia utilizzandoli pochissimo vediamo un po' che ne verrà fuori tutto pronto Oblak contro De Gea De Gea che viene dal campionato inglese un campionato anche quello molto difficile e quindi Iago Aspas è pronto Atletico Madrid Valencia inizia qui mamma mia debutto con una squadra fortissima ma cercheremo di vincerla cercheremo di vincerla se riusciamo a vincere già questa partita beh si fa davvero interessante il cammino no 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 attenzione subito pericolosi ritorniamo ritorniamo signori il passaggio nell'area di rigore la chiusura di Matteo Genduzzi molto bene Matteo Genduzzi abbiamo rischiato però eh la tocca per Carlo Soler Carlo Soler molto bene attenzione perché mamma mia Racic se azzeccava il passaggio c'era Joshua liberissimo per Racic molto bene Carlo Soler avanza c'è spazio Carlo Soler per Moise che è nel tiro e il difensore riesce a fare muro si salva l'Atletico Madrid un Valencia che sta girando davvero molto bene chiudi 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 Parti molto bene per Herrera Herrera la tiene la scambia ancora con Thomas Parti Herrera salta così l'avversario ci mette il piede con te chiusura riuscita c'è fallo di Moise Ken attenzione alle ammunizioni Moise Ken è davvero molto aggressivo chiusura di Genduzzi fallo anche suo poi scivolata c'è un altro fallo ancora siamo molto aggressivi non vogliamo far muovere l'Atletico Madrid su Arez molto bene Iago Aspas sbaglia il passaggio possiamo ripartire attenzione perché conto due ammunizioni qui ce n'è un'altra occhio a questo tocco Moise Ken la tiene ancora cerca Zirkzi ma troppo in anticipo Suarez Zah la tiene la mette in mezzo fuori gioco e arriva l'ammunizione a Moise Ken chiudi 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 sempre chiudi sempre attenzione che c'è spazio chiudete De Gea attenzione questi incominciano ad attaccare in modo feroce Zirkzi di testa toglie le castagne dal fuoco benissimo il 91 può andare ancora c'è spazio contropiede Joshua sempre lui Joshua mamma mia c'è spazio Joshua finta di Joshua lo vede lì all'indietro Racic il tiro murato colpo di testa ancora Racic bruttissimo bruttissimo tiro finisce il primo tempo applausi signori applausi la squadra gira bene gira davvero molto bene sono felicissimo inizia il secondo tempo io firmerei davvero per questo pareggio contro l'Atletico Madrid eh gran bel pareggio in trasferta poi occhio capisce tutto un fallo un altro intervento eh ma sul pallone o mi dai il fallo di prima o questo non c'era ammonito Carlo Soler vabbè vabbè la mette in mezzo Suarez la butta fuori Racic vediamo se Moise Ken no niente da fare non ce la facciamo attenzione che qui c'è spazio Atletico Madrid in vantaggio peccato peccato Iago Aspas ma peccato allora prima sostituzione non mi è piaciuto tantissimo Racic facciamo così McKennie e passiamo qui Gendusi fanno questo 1-2 Suarez Suarez si ferma Suarez chiusura di Paulista ripartiamo proviamoci in contropiede ancora Matteo Gendusi ancora Matteo Matteo Gendusi sempre lui tocco ah Moise Ken Zirk Z McKennie Gonzalo Geddes nell'area di rigore Gonzalo la parata di Oblak che gliel'ha tirata addosso grande occasione non riusciamo poi ad andare di testa per servire Moise Ken peccato però una partita che potevamo anche pareggiare occhio occhio il tiro poteva far meglio De Gea corner attenzione a 65esimo la buttiamo fuori con Gendusi che parata ha fatto De Gea mamma mia che fucilata sul colpo di testa di Gendusi chi è parti batò meno male che il pallone era centrale riflessi davvero fantastici per De Gea la buttiamo fuori vai mamma mia mamma mia e adesso prendiamo il secondo e adesso prendiamo il secondo lo sapevo lo sapevo si vedeva proprio la predisposizione della difesa esce Gendusi entra Tom Davis esce Zirk Z che ha giocato bene secondo me ed entra Valleco esce Iago Aspas ed entra Costa Valleco si sposta riesce a trovare Carlo Soler Carlo Soler ancora la tiene la mette giù venite incontro benissimo Moise Ken si gira Moise Ken ancora un tocco Carlo Soler finta di Carlo Soler poi con il sinistro rientra ma non troviamo spazi passaggio lì indietro con dobbia Tom Davis sa tirare da lì ancora Carlo Soler Carlo Soler Carlo Soler corner proprio alla fine entra Joe Felix meno male che entra solo adesso Soler non era in forma probabilmente pallone in mezzo esce Oblak e per il momento Oblak De Gea 2 a 0 per Oblak ma aspetta aspetta ci vediamo l'anno prossimo o già nel nel match di ritorno in casa nostra sarà diverso saranno già cresciuti 2 a 0 atletico mi aspettavo una sconfitta è arrivata ma non ci sono note negative siamo stati solo ingenui a prendere quei due gol con un po' più di attenzione si poteva persino vincere se riuscivamo a fare il gol nel primo tempo va bene così va bene chiudiamo così questa puntata nella prossima affronteremo il Real Sociedad l'Atletic Bilbao e il Celtavigo c'è ancora il calciomercato aperto potrei ancora acquistare ma no perché no perché quei 10 milioni li voglio spendere per lo staff degli osservatori quello primavera lo abbiamo già preso quindi penso di spendere quei 10 milioni per gli osservatori e se rimane qualcosa per rinnovi e per il calciomercato di riparazione ok vedremo se riusciremo a vendere qualche giocatore che non ci interessa in quel caso si penseremo ad acquistare secondo me più che altro un esterno sinistro visto che abbiamo venduto Gaia però abbiamo ancora Likangin che comunque è un potenziale talento abbiamo Sheryshev abbiamo Gonzalo Geddes quindi non siamo messi non siamo messi male ok va bene signori io vi do un bacione un abbraccione e ci vediamo nella prossima puntata mi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su lasciate condividete cercate di supportare questa serie per far uscire ogni giorno una puntata di FIFA ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti